Musica Strage di civili a Rafa, a due giorni dall'ordine della Corte Internazionale di Giustizia di fermare ogni operazione militare. Oltre 40 morti, colpita una base terrorista, si difende Israele. A un anno dal femminicidio di Giulia, Tramontano risponde in aula davanti alla Corte d'Assise di Milano il suo assassino, Alessandro Impagnatiello. Presenti anche i familiari della vittima. Oltre 300 milioni di bambini sono vittime di abusi sessuali online, lo rivela uno studio dell'Università di Edimburgo. Gli Stati Uniti sono un'area ad alto rischio. Mezzogiorno ben ritrovati negli studi del TG2000. Dunque ancora una strage di civili a Rafa. Decine di persone sono morte in un nuovo attacco israeliano. Le vittime sono soprattutto donne e bambini. Tel Aviv ammette l'operazione sostenendo di aver colpito un gruppo di terroristi. Servizio di Federico Plotti. Una strage di civili a Rafa, città più meridionale della striscia. Già da tempo nel mirino di Israele lo Stato ebraico ha colpito duro. Otto missili hanno centrato parte della tendopoli in cui da tempo si rifugia oltre un milione di sfollati. Una carneficina, bambini, donne e uomini arzi vivi in un inferno di fuoco e fiamme. Decine i morti, 50 e più, secondo fonti locali, tantissimi feriti. Solo nel piccolo ospedale allestito da medici senza frontiere ne sono stati trasportati 180, oltre ai corpi senza vita di 28 persone, comunica l'organizzazione non governativa. Secondo la mezzaluna rossa, le conseguenze di questo ultimo attacco israeliano potrebbero essere ancora più pesanti, perché molti dei feriti non potranno essere assistiti, considerata l'ormai quasi totale assenza di strutture ospedaliere, ma anche di farmaci e presidi sanitari. Attacco confermato anche da Tel Aviv, che però spiega di aver colpito un obiettivo militare. Lì dove si ammassano i profughi fuggiti. All'inizio della guerra, dal nord della striscia, c'erano anche alti esponenti di Hamas. Due sono stati eliminati, annuncia l'IDF, riconoscendo quanto accaduto e anche i danni collaterali. Così si chiamano freddamente le conseguenze di un attacco, che in questo caso ha causato il ferimento e la morte di numerosi civili. Per l'autorità nazionale palestinese, quanto avvenuto nella Tendopoli è un massacro che supera ogni limite. Nei giorni scorsi, sempre dalla stessa zona, dopo tanto tempo, erano ripresi i lanci di razzi di Hamas verso Israele. E la paura è che questo nuovo attacco possa ostacolare la ripresa dei negoziati. Ma per le ultime colleghiamoci in diretta con la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Bentrovata, Alessandra. Buongiorno. L'ha appena detto, infatti, anche il Qatar, che è tra i mediatori di questa sempre più difficile trattativa, ma si allunga la lista dei paesi che condannano a questa strage nel campo profughi di Rafa, perché ci sono anche Egitto, Giordania, Arabia Saudita, ma anche Unione Europea e Italia, perché il ministro di difesa Crosetto ha detto che ormai questa violenza è ingiustificabile. Il procuratore militare generale israeliano promette un'inchiesta su quanto è accaduto e sappiamo che l'attacco di questa notte ha seguito poche ore, il lancio di ieri di otto missili da parte di Hamas e proprio da Rafa contro Tel Aviv. Vuol dire che questi hanno ancora l'operatività per farlo e anche che possono scegliere comunque il momento in cui attaccare ancora Israele. Lo hanno fatto chiaramente dopo che la Corte Internazionale dell'AIA ha ordinato la cessazione delle operazioni militari proprio a Rafa. Ordine che sappiamo il Premier italiano non sembra intenzionato a seguire. Premier che è sempre più irritato per la fuga di notizie perché parlano appunto di una frustrazione dei mediatori israeliani per una tregua che il Premier non vorrebbe assolutamente. Domani a Parigi ci sarà un altro round di colloqui con il capo della CIA ma sappiamo che soprattutto dopo questa strage le speranze sono sempre più deboli. Ieri migliaia di persone a Tel Aviv hanno accompagnato il corteo funebre dei tre corpi, dei tre ostaggi che sono ritornati e erano stati trovati in un tunnel a Jabalia e anche l'ultima notizia è che il ministro degli esteri dell'Unione Europea Borrell ha assicurato e confermato di essere a lavoro per lanciare una missione europea dedicata all'assistenza proprio alla frontiera di Rafa. E da Gerusalemme la linea può tornare a voi. Grazie, grazie Alessandra Puzzetti. L'altro fronte di guerra all'Ucraina, combattimenti sempre più intensi a est del paese. L'alto rappresentante dell'Unione Europea Borrell definisce un crimine di guerra l'attacco di sabato in un centro commerciale di Kharkiv. Putin intanto è in Uzbekistan per il suo terzo viaggio all'estero del suo nuovo mandato. Maurizio Rischino. Purtroppo sono già stati registrati 16 morti, ha dichiarato ieri sera il governatore della regione ucraina di Kharkiv, Oleg Sinegubov, aggiornando il bilancio dell'attacco aereo russo di sabato contro un ipermercato di bricolage nella città di Kharkiv. 43 i feriti. Si scava ancora tra le macerie alla ricerca di 16 dispersi. Il numero di persone uccise durante le azioni militari sta aumentando su entrambi i fronti. Se si può chiamare azione militare, bombardare un supermercato quando è pieno di gente. L'attacco ad un centro commerciale di Kharkiv è un altro esempio di crimini di guerra e atrocità commesse dalla Russia, ha detto stamani a Bruxelles l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Josep Borrell, a margine del Consiglio Affari Esteri. Nell'Ucraina orientale i combattimenti si stanno intensificando anche a Kupiansk e a Pokrovsk. Durante la notte l'Ucraina con i droni ha colpito un deposito petrolifero a Livni, in territorio russo. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Un altro drone ucraino ha percorso 1800 chilometri per attaccare una stazione radar nella città russa di Orsk. Si sta molto discutendo sull'uso delle armi inviate all'Ucraina dagli stati alleati. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito che tutto il materiale militare italiano non può essere usato al di fuori dei confini dell'Ucraina. Nel frattempo si continua a lavorare sulla bozza per la conferenza di pace sull'Ucraina, che si terrà a Lucerna in Svizzera il 15 e 16 giugno, preparata durante il G7 italiano appena terminato. Cina, Giappone e Corea del Sud hanno tenuto a Seul il primo vertice congiunto dei tre paesi a distanza di quattro anni dall'ultima volta. L'obiettivo è quello di approfondire i legami commerciali a beneficio delle rispettive economie, anche tramite il rilancio dei negoziati per un accordo di libero scambio. In una dichiarazione congiunta i tre leader hanno concordato di istituzionalizzare la cooperazione trilaterale, organizzando regolarmente vertici e riunioni ministeriali. Un anno fa il femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza dal compagno e padre del bambino. Oggi, in questi minuti, Alessandro Impagnatiello sta rispondendo in aula. Raffaella Frullone. Alessandro Impagnatiello è arrivato in aula scortato dagli agenti. Davanti alla Corte d'Assise di Milano dovrà rispondere alle domande del procuratore aggiunto Letizia Mannella e del PM Alessia Menegazzo. Su di lui pendono le accuse di omicidio aggravato dai futili motivi, dal vincolo della convivenza, dalla crudeltà e dalla premeditazione, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza. Rischia quindi la pena massima all'ergastolo. Il delitto si è consumato a Senago, nel milanese, esattamente un anno fa, quando con 37 coltellate in Pagnatiello ha ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, 29 anni, e il figlio che la donna portava in grembo, Tiago, probabilmente perché la ragazza aveva ormai scoperto la relazione di lui con una giovane amante. L'osso sottopone all'esame, tranquillo, ha voglia di parlare, di spiegare tutto quanto. Racconterà tutto quello che è successo a corso del mese maggio? Sì, ma soprattutto racconterà perché l'ha fatto? Vediamo, in base alle domande. Pensa che emergeranno dei dettagli che non sono mai emersi prima? Sì, penso proprio di sì. Secondo la procura, da dicembre del 2022 in Pagnatiello avrebbe fatto ricerche sospette tramite internet tra cui ammoniaca e feto o anche quanto veleno per topi è necessario ad uccidere una persona. Sempre dal telefono, questa volta di lei, emergono messaggi in cui la ragazza comunicava alla madre che l'acqua sapeva di ammoniaca, elementi questi che potrebbero portare anche all'accusa di premeditazione. L'inchiesta per corruzione a Genova attesa oggi per l'interrogatorio di Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'autorità portuale. Intanto il GIP ha negato la revoca degli arresti domiciliari per Aldo Spinelli. L'imprenditore indagato è al centro dell'inchiesta che ha coinvolto i vertici della regione Liguria. La morte a Palermo dell'architetto Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato. Restano aperte tutte le piste. Oggi l'autopsia. Caterina Dall'Olio. Nulla è ancora detto sul caso di Angelo Onorato, l'architetto trovato nella sua auto senza vita a Palermo. E le indagini su una morte che presenta molti lati oscuri vanno avanti. Sabato notte la polizia ha sentito la moglie, l'eurodeputata Francesca Donato e la figlia che hanno continuato a ripetere che l'uomo non può essersi tolto la vita. Oggi in serata dovrebbe svolgersi l'autopsia che potrebbe dare qualche risposta in più. Il medico legale che ha visto per primo il cadavere del 56enne ha negato che sul corpo ci fossero segni di violenza. Come sembrano mancare elementi che possano far pensare a una collutazione o a una qualunque reazione della vittima a un'aggressione. Difficile ipotizzare però che il professionista sorpreso da dietro da chi si trovava con lui in auto possa essere rimasto inerte mentre l'assassino gli stringeva la fascetta alla gola. Ma se la dinamica e lo stato dei luoghi sembrano compatibili col gesto estremo manca al momento il movente che può aver spinto onorato a togliersi la vita. E pare sfumata anche la pista dei debiti l'imprenditore che doveva riscuotere alcuni crediti aveva comunque diversi lavori in corso e non viveva particolari sofferenze economiche. Operazione contro l'andrangheta dei carabinieri di Reggio Calabria che questa mattina hanno tratto in arresto 12 persone colpita la cosca Latella, Ficara. Le accuse a vario titolo sono di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni e armi. Sono almeno 2.000 le persone sepolte vive dall'enorme frana che nei giorni scorsi in Papua Nuova Guinea ha travolto un villaggio in una regione remota e difficilmente accessibile. A rilento i soccorsi anche per il rischio di nuovi smottamenti. Antonella Mazzaterwe. Esprimono così il loro lutto gli abitanti di Iambali nella Papua Nuova Guinea venerdì scorso una grande frana è scivolata sul villaggio nella provincia settentrionale di Enga e il numero stimato delle vittime continua a salire. Quest'abitante racconta che la frana ha sepolto 18 persone della sua famiglia. Ringrazia coloro che sono accorsi in aiuto ma confida di sentirsi impotente perché non può recuperare i corpi dei suoi familiari. Gli abitanti infatti stanno cercando di salvare ciò che è loro rimasto. Spalano a mano, usano bastoni, vanghe, forche agricole ma sono resti all'impiego di macchinari pesanti per la rimozione dei detriti perché vogliono ritrovare integre le salme dei propri cari. E a peggiorare la situazione sostiene il capo della missione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Papua Nuova Guinea, Serran Actropica e l'acqua che scorre sotto il suolo sul quale sono rimasti i detriti. Si teme che il fango possa trasformare il terreno in uno scivolo, continuano a cadere rocce e si stanno formando crepe anche nelle aree contigue a quella dove è ceduta la frana. Alla difficoltà dei soccorsi nell'area isolata si aggiungono i conflitti tra tribù locali per l'approvvigionamento di materie prime, guerre in corso nella zona da secoli ma per la facilità nel reperimento di armi automatiche sono ultimamente ancora più violente. Con cuore pieno di gioia e gratitudine a Dio annunciamo la liberazione di padre Basil Gbuzzuo così in un comunicato la diocesi di Oniccia ha comunicato appunto la liberazione di padre Basil il sacerdote rapito il 15 maggio. Basil, secondo quanto riporta l'agenzia Fidesz, sarebbe stato rilasciato dai suoi rapitori il 23 maggio in una località nei pressi di Ufuma. Oltre 300 milioni di bambini sono vittime di abusi sessuali online lo rivela uno studio dell'Università di Edimburgo. E' una pandemia sanitaria globale rimasta nascosta per troppo tempo. Nell'ultimo anno nel mondo un bambino su otto è stato vittima di acquisizione e condivisione non consensuale di foto e video di natura sessuale. I ricercatori dell'Università di Edimburgo stilano la cifra abberrante di 302 milioni di minori. Un crimine abbietto contro i più piccoli ed indifesi. Evidentemente questo comporta una maggiore attenzione ma soprattutto un maggior contrasto che deve partire necessariamente dalla repressione e dalla individuazione di chi abusa dei bambini e di chi produce e immette il materiale. Dall'altra parte non possiamo dimenticare la prevenzione fondamentale e importante affinché in questi numeri qualcuno possa essere salvato. Certamente l'auspicio è che nessun bambino possa essere abusato. Il problema è mondiale ma lo studio inglese riporta che gli Stati Uniti sono un'area ad alto rischio con un uomo su nove che ammette di aver commesso reati online contro i bambini. Il materiale pedopornografico è così diffuso che in media i file vengono segnalati una volta al secondo. La ricerca arriva dopo l'allarme della polizia britannica sulle bande criminali nell'Africa occidentale e nel sud-est asiatico che prendono di mira adolescenti d'oltremanica con truffe di sextortion online in cui i predatori chiedono denaro alle vittime per mantenere private le immagini estorte con l'inganno. Con un tuffo in mare il pilota della Ferrari Leclerc ha festeggiato la sua vittoria ieri nel circuito di Monaco. Eccolo, lo vediamo. In queste immagini un salto verso le acque del Principato insieme ad alcuni membri della scuderia del Cavallino Rampante. Ci salutiamo così, vi lascio a terza pagina e al meteo. Vi ricordo che l'informazione del TG2000 torna alle 14.55. Buona giornata. L'archivio segreto vaticano, ovvero il patrimonio storico per eccellenza dell'umanità. Un paradiso per gli studiosi, ma anche un luogo che già da quell'aggettivo emana un fascino di mistero e assieme di autorevolezza. Quell'autorevolezza garantita dal novero dei secoli. E con questo secretum il giornalista Massimo Franco, assieme a un cicerone d'eccezione, ci spiega quanto ancora possa emergere da questo autentico tesoro. Emerge una lettura della storia spiazzante, originale e che è resa possibile dal fatto di essere guidati da un personaggio poco noto, ma in realtà molto rispettato e molto preparato, come Monsignor Pagano, che non è soltanto dal 1997 il prefetto dell'archivio segreto vaticano, ora apostolico, ma come è stato definito una volta, è l'archivio segreto vaticano. Quindi aver potuto visitare questi documenti, consultarli con la sua guida, secondo me è stato un privilegio che poi il libro ha reso accessibile a un pubblico molto più vasto. E c'è una storia che ti ha colpito più di altre? Ce ne sono moltissime. Una cosa che mi ha colpito molto è che quando abbiamo affrontato il tema della razzia di Napoleone dell'archivio segreto ho chiesto se era salvato qualcosa. Monsignor Pagano si è voltato, ha aperto un armadio nel suo studio, c'era un grappolo di sigilli di cera rossa sopra ad una pergamena in latino, era la petizione che tutti i nobili inglesi avevano rivolto al Papa perché Enrico VIII potesse divorziare. Il fatto che lui la tenesse lì mi ha colpito molto. Le cose non sono mai come sembrano, è la constatazione che ispira l'imponente statua di Polito che da quasi 70 anni presidia l'ingresso alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Un vero e proprio rompicapo per studiosi e storici che nei giorni scorsi si sono ritrovati dentro le mura leonine per cercare di dipanare il mistero che aleggia intorno al reperto marmoreo ritrovato secoli fa tra la via Nomentana e la Tiburtina. Nel 1551 il personaggio rappresentato fu identificato con Sant'Impolito, romano e vescovo. Finché nel 1977 un'archeologa molto importante, Margherita Guarducci, famosa anche per gli scavi della tomba di Pietro, si rende conto che innanzitutto non è una stata unitaria, è fatta almeno di tre parti diverse. Una è palesemente cinquecentesca, una è dubbia e una è di età Antonina. Quindi a un certo punto sarebbero state assemblate queste tre parti per creare una figura che di fatto non è mai stata rappresentata, non è mai stata seduta su quella seggiola. L'unico problema è che appunto su quel sedile qualcuno scrisse i titoli delle opere di Polito Portuense, quindi dovendo ricostruire si pensò che si dovesse partire da lì, ma in realtà la Guarducci si rese conto che quell'iscrizione era tardiva rispetto alla statua. Un enigma da sciogliere, non solo arrivare alla definizione dell'uomo rappresentato, ma anche capire la lista dei titoli e l'incisione del computo pasquale, utile a calcolare secondo le fasi lunari la data della Pasqua. Ma ad oggi ciò che sappiamo è per negazione. Non è mai stato i Polito quello seduto lì sopra, probabilmente non era nemmeno un uomo quello seduto lì sopra, perché dal tipo di sedile era una sedia da donna, poteva essere stata una filosofa addirittura epicurea seduta lì. A un certo punto una mano cristiana incide delle cose cristiane sopra e quando la statua viene ritrovata molto rovinata, si parte paradossalmente proprio dall'elemento che non c'entrava niente. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS